Siamo con Giovanni Locombi, il creatore e l'ideatore di un portale molto interessante che riguarda Viterbo. Si tratta di un portale che praticamente ci indica sia i luoghi turistici ma anche quelli che possono essere le situazioni del sociale. Ne parliamo direttamente con lui. Allora, come si chiama il portale e in particolare che cosa avete voluto fare con questo progetto? Allora, il portale si chiama comune-diviterbo.com, è molto semplice da ricordare e è stato creato per far vedere quanto è semplice poter mappare dei punti della città, siano essi turistici o istituzionali o sociali, su una semplice mappa. Tutti conoscono le mappe di Google, più o meno tutti conoscono un avviatore sedilitare e questa è un'integrazione delle due cose. Quindi abbiamo dei punti segnalati su una mappa che permettono in maniera molto pratica di indicare e di individuare su un percorso o comunque su un indirizzo. Il portale che è online oggi ha all'interno oltre 240 punti che sono in continua espansione e, come dicevo, racchiudono punti di interesse turistico. Abbiamo mura di viterbo, piazze, fontane, chiese eccetera e abbiamo punti del sociale che con l'aiuto dell'assessore Sabatini abbiamo implementato, quindi asilinido, case famiglie eccetera. Punti di interesse sportivo, grazie all'assessore Contardo abbiamo mappato tutta la parte sportiva, quindi impianti di calcio, calcetto, bocce, qualsiasi cosa. E abbiamo notato noi in primis che c'è una multitudine di punti che Viterbo non conosce, i viterbesi e non solo i giovani, anche persone grandi non conoscono e che riscoprono volentieri con il sito. Un esempio molto pratico abbiamo fatto una mappatura delle porte della città, adesso molte porte sono state riaperte negli ultimi anni, ci sono tantissime che sono nascoste e con grande fatica, non nascondo, siamo riusciti a entrare in case private, chiedendoci l'autorizzazione chiaramente, per poter fare le foto dalla parte in cui la porta ancora esiste perché magari è coperta da una palazzina nella parte della mura percorribile con la strada. E le persone che vedono queste foto rimangono basite, rimangono stupefatte di quanto è bella la città, anche chi già ci abita la conosce. Noi speriamo che il progetto possa implementarsi ancora di più e rendere onore alla città, quello che è il nostro intento. Mi è sembrato di capire che tra l'altro, oltre appunto a questa versione di mappa quasi classica, nel senso andiamo a scoprire i luoghi che magari uno non conosce e sono sicuramente tantissimi anche per noi viterbesi, oltre appunto ai siti istituzionali, anche un discorso relativo alle manifestazioni che si svolgono a Viterbo? Assolutamente, abbiamo cercato di trovare più sinergia possibile con quelle che sono le manifestazioni che ormai hanno consolidato la loro presenza a Viterbo abbiamo un rapporto con Caffeina, stiamo cercando di definire qualche cosa ma per capirci cercheremo di creare quello che stiamo facendo adesso con Ludica Ludica è in questi giorni a Viterbo e faccio vedere questo, tramite questo tipo di cartellonistica che è stata già apposta in diverse zone di Ludica abbiamo un punto di accesso al portale, spiego velocemente, il portale chiaramente è visibile da qualsiasi dispositivo casalingo da un iPad o da un tablet ma per i dispositivi mobili, i smartphone, i cellulari Android o iPhone, insomma uno smartphone è possibile tramite un codice QR accedere direttamente alla risorsa di quel punto molto brevemente sparo il codice QR con il cellulare il codice QR ti porta direttamente alla pagina di interesse specifico quindi con informazioni, foto, programmi nel caso ad esempio di Ludica, di Caffeina e poi di Medioera dando la possibilità alle persone di sapere con certezza quello che c'è in quel momento, in quel punto e nelle zone limitrofe dando anche un'idea di presenza di quell'evento in quel momento specifico in cui la persona è in quel posto così ci si può muovere tranquillamente per la città trovando i punti di interesse molto facilmente a questo lo faccio vedere giusto per dare un'idea stiamo cercando di completare un libretto, questo è un demo, di circa 160 pagine che sarà completamento di quello che è il prodotto comune di Viterbo.com non possiamo pretendere che tutti abbiano uno smartphone né che tutti sappiano utilizzarlo e questo libretto sarà uno strumento che utilizzerà spero il comune molto volentieri per portare Viterbo a casa delle persone, siano esse della città o turisti ci sono informazioni, ci sono foto, ci sono i codici QR anche in questo caso così da poter accedere al resto della documentazione e è molto bello, è chiaro che è molto bello spero di potervelo far trovare in giro nel più breve tempo possibile questa è l'intenzione, speriamo prima di Santa Rosa che è il solito evento cardine della città